Il Festival della Cipolla Rossa di Tropea 2022, ci può raccontare qualcosa sull'iniziativa? Sì, questo è un evento che vuole collocarsi tra i più importanti eventi enogastronomici sul territorio nazionale. La Tropea Experience, la Tropea è il nome con cui gli operatori del settore e del mercato chiamano la Tropea. L'Experience dà l'esperienza appunto sensoriale di un'iniziativa che dà sicuramente un tono internazionale. Quindi quest'anno avremo la partecipazione di chef importanti internazionali, oltre a dei momenti di incontro con opinion leader di fama nazionale e internazionale che attraverso dei dibattiti e dei convegni coinvolgeranno il pubblico presente in quei giorni. Grazie per la visione! Grazie per la visione!